Nel prossimo appuntamento, il viaggio nei sentimenti delle nostre coppie regalerà colpi di scena assolutamente inattesi. Tra dubbi, scoperte, delusioni e nuovi avvicinamenti, una delle coppie arriverà a un punto cruciale del proprio percorso. Quale sarà? Prosegue il viaggio nei sentimenti delle coppie che hanno deciso di mettersi in gioco a Temptation Island 2024. Filippo Bisciglia annuncia grandi colpi di scena per questa terza puntata, che andrà in scena stasera in TV, giovedì 11 luglio, alle 21.40 su Canale 5. Vediamo dunque le anticipazioni. Cristian e Ludovica sono già usciti separati dal reality. Fidanzati da un anno e dieci mesi, lui 34 anni, lei 29, era stato lui a decidere di partecipare a Temptation. Ludovica, infatti, per due volte, lo aveva già lasciato perché si diceva confusa. In realtà, entrambe le volte, lui ha scoperto che lei lo tradiva con lo stesso uomo. Lui l'aveva perdonata ed erano tornati insieme, ma ciò che Cristian ha visto nel villaggio non gli è piaciuto. Lei si è fatta sedurre dal single Andrea. Una doccia insieme in camera lontano dalle telecamere avrebbe provocato la rottura definitiva. Un mese dopo, la coppia ha raccontato che si sono definitivamente separati. Alessia, pronta a fuggire dal villaggio. Alessia, sempre più furiosa, collino che continua a rifiutare i falò di confronto. Mentre il percorso del fidanzato prosegue serenamente tra avvicinamenti con le tentatrici e Marachelle con i compagni di viaggio, la Pascarella è pronta a tutto pur di incontrare il ragazzo. Alessia arriva a intimare gli addetti ai lavori di essere pronta ad attraversare la spiaggia che divide i due villaggi aprendo la porta. Ci sarà il confronto tra i due? Nel frattempo sui social dicono che Lino sia già al mare, con gli amici e questo farebbe intendere una sola cosa, ovvero che il fidanzamento è finito e sono tornati a casa. Lacrime per Raul, Vittoria e Matteo. Nel frattempo Raul è sempre più deluso dagli atteggiamenti della fidanzata Martina e comincia a nutrire seri dubbi sulla possibilità che la storia tra loro continui «Ma io posso stare a guardare la persona che amo che fa queste cose?» Vittoria, sempre più deluso da Alex. Si sta facendo un'altra storia di là. Matteo poi sembra non riconoscere più la fidanzata Siria. «Non la capisco più, ma io che cazzo? Mi ci sono confuso a fare con una persona così?» Grazie per la visione!